Ho parlato buonissimo sulle ultime parole, sul fatto che Barman non mi direi che è proprio una cosa riconosciuta e non penso sia io l'unico dirlo. Sul resto posso essere in parte d'accordo perché toglie energie e comunque dover inseguire e vedere che davanti si stia facendo qualcosa di, penso, mai visto negli ultimi anni. Di conseguenza qualcosina probabilmente ci ha tolto l'utilizzo di energie. A me piace comunque sempre pensare di poter vincere tutte le altre partite e di vedere quello che gli altri sono capaci di fare. Se poi non saremo capaci, fra qualche mese allora inizieremo a tirare le somme e a prepararci in caso dovessimo farlo per Teo. Senti, il Gubbio, il prossimo avversario, tra l'altro io ho beccato i 6 gol, qui c'era una sfida tra barbiati. Sì, assolutamente. Noi penso di più perché le ambizioni che trasmette questa società, questa città, questo stadio, nel momento in cui i risultati non arrivano, ti danno inevitabilmente qualcosa di più. Con tutto rispetto per il Gubbio, il Gubbio, il Gubbio e il Gubbio. Il Gubbio, il Gubbio.